Questo Salvatore Masiello, abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto, mi senti Cristian? Sì. Ciao, sono Francesco, volevo fare una domanda tecnica a Mr. Chiricalo. Vai. Io ho espresso il mio parere su come la penso sul Bari. Io penso innanzitutto che questa è la squadra e bisogna essere vicino alla squadra, punto e basta, prescindere. Poi volevo chiedere a Mr. Chiricalo, dopo le sollecitazioni di vari mister che abbiamo sentito nelle trasmissioni televisive sul fatto di cambiare un po' il modulo tattico, volevo chiedere a lui cosa ne pensa se questa cosa può essere fattibile da parte di Ventura. Cioè il fatto di variare magari lo schema secondo delle squadre attendistiche, come vedi la Lazio Domenica e tanti altri che ormai non mandano più le due punte nella nostra area, ma ci aspettano e quindi il gioco rimane fermo, lì stagno a centrocampo. Volevo poi salutare tutti gli amici del forum che ci ascoltano e che sono sempre lì attenti a guardarci. Grazie, grazie Francesco per il tuo intervento. Marcello. Io credo che, come dicevo prima, Ventura ha questo suo modulo di gioco che da tantissimi anni adotta e quindi difficilmente magari sarà portato a cambiarlo a seconda delle partite. Magari a seconda delle partite potrà cambiare gli uomini, nel senso che potrebbe mettere magari qualche giocatore diverso sugli esterni o magari a centrocampo o in attacco, però è relativo sempre con quel tipo di modulo di gioco. Quando si parla del cambiare il modulo magari può essere a partite in corsa avere qualche soluzione, ma questa soluzione te la dà la qualità o le caratteristiche dei giocatori che hai nell'organico. Siamo quasi addirittura ad arrivo. Chiedo alla regia, se è possibile, mostrare la sintesi del Terlizzi. Terlizzi che ha pareggiato domenica scorsa 1-1 in casa contro il Marugio. Adesso D'Urso mette per Krupi, pericolosamente tiro rete! Un gran bel gol, una gran bella azione da parte del Marugio. Peluso porta in vantaggio il Marugio. Suarez, area di rigore, allarga per Campanale che può proiettarsi in area di rigore. mette al centro e solo rete! Ventura! Anticipato il proprio marcatore pareggiando le sorti dell'incontro dopo una bella azione in profondità di Campanale. Questo l'1-1 del Terlizzi. Marcello, un'ultima battuta proprio sulla formazione del presidente D'Alessio, quarto ultimo in classifica. Domenico una sfida importantissima. Lucera, squadra in difficoltà. Come si viene fuori da questa situazione? Io, innanzitutto, posso dirti che lì c'è sia Titti D'Alessio che Sergio Notariari, che sono due persone veramente a me legate, molto amiche. E credo che per poter venire fuori da una situazione del genere, come dicevo prima, è quello di essere convinti, innanzitutto, delle scelte che sono state fatte in estate. E di questo penso che il presidente D'Alessio abbia sempre dimostrato, da quando fa il presidente, ha sempre conservato l'allenatore. Perché? Perché credo che in questo caso specifico ci troviamo di fronte, forse, a uno degli allenatori più esperti di questa categoria. Sicuramente loro hanno iniziato male e questo inizio, secondo il mio parere, è coinciso anche con i tanti infortuni che ha subito la rosa a disposizione notariale. E ora mi auguro che con l'arrivo di questi nuovi giocatori, questi ulteriori sforzi che ha fatto Titti, possano veramente ripagarlo per quelle che sono le sue aspettative. Non ti chiedo se c'è stato un contatto con il presidente D'Alessio, non scherziamo. No, non esiste perché Titti sa benissimo, ne abbiamo parlato anche in estate. Avverrà, ecco, il giorno sicuramente in cui andrò a lavorare con lui ci sarà, per il momento credo di no. Intanto Giuseppe D'Ambrosio del centro coordinamento ci comunica che si stanno comunque organizzando dei pullman in vista della trasferta di Firenze, velocemente il numero 333 11 26 711. Ripeto, 333 11 26 711. È davvero tutto per noi, ringrazio l'allenatore Marcello Chiricallo. Grazie a voi. Grazie anche a voi per l'attenzione, il TV Sport tornerà sempre domani con Enzo Tambor e il professor Gianni Antonucci. Buon pomeriggio. Grazie a voi.